Buonasera, sono il dottore Scalera. Oggi vi volevo parlare delle possibilità del rimodellamento corporeo con i diversi device che abbiamo a disposizione presso la Scalera Clinique. In base alla gravità degli accumuli adiposi localizzati a livello dell'addome, a livello dei glutei, a livello dei fianchi, a livello del mento, noi abbiamo diversi strumenti che possiamo utilizzare. Quello di cui sono il più entusiasta è la base al lipo, che mi permette con delle micro cannule di emulsionare prima il grasso e poi di aspirarlo. Tale apparecchio ci permette di aspirare in una sola seduta anche delle quantità molto elevate di grasso, intorno ai 4-5 kg e più. L'altro apparecchio del quale vado molto fiero è il G-plasma. Allora, il Lenuvion G-plasma è uno strumento che utilizzo molto anche nella post-bariatrica. Quando c'è una perdita di peso intorno ai 30-40 kg, ovviamente quando il soggetto non è in un peso estremo, il rilassamento cutaneo che noi abbiamo dopo l'intervento di chirurgia bariatrica, ci consente, grazie all'utilizzo del Lenuvion, di stendere la pelle che si è rilassata dopo il rimarrimento, ottenendo veramente degli ottimi risultati. L'altro apparecchio che ci permette di ottenere un rimodellamento corporeo non invasivo è la Criolipolisi. Questa Criolipolisi è una delle migliori del mercato, è la Cooltech Define, è una delle migliori perché ha la possibilità di poter trattare più zone contemporaneamente con dei manipoli particolari che ci consentono praticamente di aspirare il pannicola adiposo da trattare all'interno. Qui all'interno ci sono delle cellule di Peltier che portano a temperatura circa meno 17 gradi del grasso. Il trattamento dura circa un'ora e dieci, il grasso viene congelato, va in necrosi e nei due mesi e mezzo successivi il grasso viene riassorbito dalle cellule macrofagiche del corpo. Ovviamente questo è un trattamento non invasivo per cui richiede almeno due o tre sedute per avere degli ottimi risultati.